Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Ci troviamo a Valley City, capoluogo della contea di Barnes, nello stato del nord Dakota. Questa è una piccola cittadina tranquilla, conosciuta per i suoi numerosi ponti sul fiume Cheyenne. Infatti è chiamata proprio la città dei ponti. A Valley City c'è una piccola università in cui tutti si conoscono. Insomma ci troviamo, come per la maggior parte di questi casi, in un luogo tranquillo, pacifico. Fino a quando una ragazza viene ritrovata senza vita nel suo appartamento. L'intera comunità è sconvolta, vivono letteralmente nella paura e temono che l'assassino sia tra loro. La protagonista di questo caso si chiama Mindy e nasce il 29 aprile del 1984. I suoi genitori hanno adottato lei e sua sorella a Bogotà, in Colombia. Sono cresciuta in New Salem, una cittadina a circa 266 chilometri da Valley City. Il tempo passa e mi disse il diploma alla New Salem High School. La ragazza è una giovane energica, attiva e laboriosa. Partecipa sia alle attività di atletica che al basket. Per l'esattezza è l'assistente dell'allenatore di basket. La ragazza desidera portare avanti queste passioni anche al college, ma una diagnosi di sclerosi multipla, quando è una matricola, le impedisce di partecipare ad alcune attività. Mindy frequenta la Valley City State University. E nonostante la diagnosi, riesce comunque a mantenersi fisicamente attiva. Si specializza in educazione fisica e lavora come bagnina all'università. Il suo sogno è proprio quello di allenare delle squadre di basket, o comunque di entrare nel campo dell'allenamento sportivo. La ragazza, oltre ad amare follemente il basket, va anche spesso a cavallo. Fa dei lavori nella fattoria di famiglia. Ama spostare il fieno e mungere le mucche. Inoltre fa la cameriera in un ristorante chiamato Robis un paio di sera alla settimana. È così che Mindy conosce una delle sue più chiare amiche, ossia Tony. Mindy ha 22 anni e sa fare bene il suo lavoro, è molto brava con i clienti. A volte, quando c'è un po' di tranquillità nel locale, Mindy si siede ad un tavolo e si mette a conversare con dei clienti affezionati, che insomma è solita vedere durante tutti i suoi turni. Scherza con loro, è davvero una ragazza molto aperta e gioviale. Molti la definiscono anche speciale. Mindy ha una forte fede religiosa. È un membro attivo della sua chiesa e vive la sua fede ogni giorno. Ama pregare e lo fa quotidianamente. Ha sempre anteposto i bisogni degli altri ai suoi. E ha sempre amato aiutare gli altri quando era necessario. Mindy non ha insegnato alle persone ad amare, bensì ha mostrato loro come amare. La sua personalità ha avuto un impatto positivo nella vita di tanti, e non solo della sua famiglia, ma anche dei suoi conoscenti, amici, insegnanti e allenatori. Ma non è finita qui, perché Mindy apprezza anche tantissimo la musica. Canta nel coro della chiesa e inoltre sa suonare il pianoforte e il clarinetto. Arriviamo a questo punto al 13 settembre 2006, quando due amiche di Mindy, ossia Tony e Daniel, provano a chiamare la ragazza per chiederle di incontrarsi tutti insieme per bere un drink. C'è però un problema. Mindy non risponde al telefono. E questa cosa è molto strana. È davvero raro che Mindy non risponda al telefono, quindi le sue amiche si allarmano, si preoccupano, e quindi decidono di andare a controllare a casa sua, per l'esattezza, nel suo appartamento. Quando le due ragazze arrivano davanti a casa di Mindy, Daniel rimane in macchina, mentre Tony sale fino al suo appartamento, bussa alla porta, ma non ottiene risposta. Tony non pensa al peggio, Quindi esclama, dai Mindy, apri, lo so che ci sei, non fare scherzi. Poi di un colpo le viene un dubbio. Afferra la maniglia della porta, gira, e si rende conto che la porta è aperta. Tutto immerso nel buio. Tony quindi entra in casa, accende la luce, e si trova davanti il corpo di Mindy, la sua amica, senza vita. Daniel, che attende ancora in macchina, vede Tony chiudere energicamente la porta dell'appartamento di Mindy, per poi scendere di corsa dal palazzo in cui abita l'amica. Tony va verso la macchina di Daniel urlando, Credo che Mindy sia morta! Ha qualcosa intorno al collo! Tony corre veloce verso la macchina, apre la portiera e trascina Daniel con lei, fino all'appartamento di Mindy. Aprono di nuovo la porta d'ingresso, e a questo punto vedono chiaramente la loro amica Mindy, senza vita, per terra, sul pavimento. Ma c'è di più. La ragazza è stata strangolata con una cintura bianca di pezza, che ha ancora attorno al collo. Vicino ad un braccio è presente un flacone di varicchina vuoto. L'odore che si respira, infatti, è molto forte e penetrante. Poi di colpo Daniel vede entrare dalla porta d'ingresso un vicino di casa di Mindy, il punto che nessuna delle due ragazze ha mai visto quell'uomo prima. L'uomo come se niente fosse si accovaccia, tocca Mindy al polso per sentire se c'è ancora battito, poi si gira, guarda Daniel e le dice Guarda, mi dispiace, la tua amica è morta. Tony e Daniel, le amiche di Mindy, a questo punto chiamano le autorità. La polizia di Valley City e il North Dakota BCI vengono coinvolti per investigare sul caso di Mindy. Inizialmente vengono chiamati Mark Slayer e Davis Swanson che raggiungono velocemente l'edificio. Appena entrano nell'appartamento di Mindy notano la vittima sul pavimento, ha una cintura bianca di stoffa legata al collo e il segno di un taglio molto profondo lasciato da un coltello sempre sul collo. Mindy è stata strangolata prima che l'assassino le tagliasse la gola, causandone la morte immediata. Inoltre vicino al corpo c'è anche un altro coltello ed entrambi i manici dei coltelli sono stati staccati dalle rispettive lame. Si notano anche delle ustioni chimiche dovute alla varichina che le è stata versata sul mento, sul collo e sulle spalle. Dave Swanson ha già una certa esperienza con gli omicidi, dunque capisce immediatamente di aver bisogno di altra assistenza. Così sul posto ben presto arriva anche Calvin Dupress. Quest'ultimo arriva nell'appartamento e inizia a guardarsi attorno, non sa da che parte iniziare, poi però prende in mano la macchina fotografica e inizia a fotografare tutta la scena del crimine. D'altro canto lui è bravo a fare quello, è bravo a fare le foto, e quindi non si fa sfuggire neanche un particolare. Non c'è segno di effrazione alla porta d'ingresso, questo vuol dire che non può di certo essere stata, ad esempio, una rapina finita in tragedia. Lo stesso giorno, attorno alle 23, i detective bussano alla porta dei genitori di Mindy, ossia Larry ed Eunice, per dar loro la terribile notizia. La loro amata figlia non c'è più. Intanto le autorità controllano l'ultima volta che Mindy ha usato il cellulare e il computer, arrivando ad una presunta ora del decesso, le 12.30. Quando eseguono l'autopsia sul corpo di Mindy, il medico legale nota quella che sembra pelle sotto le sue unghie. Di conseguenza gliele tagliano e le mandano al laboratorio per farle analizzare. La scientifica conferma che quei campioni sembrano materiale biologico, come, ad esempio, della pelle. Quindi è possibile che Mindy abbia lottato col suo assassino? Assolutamente sì, è possibile che abbia cercato di difendersi graffiandolo con le unghie. Ma per ora il caso è totalmente avvolto nel mistero. Quindi le autorità non sanno su chi si possono realmente concentrare e considerare un indiziato. Quindi i detective che fanno iniziano a parlare con le persone che hanno trovato per prime Mindy senza vita. Ossia le sue due amiche e Jay, il vicino di casa. Ovviamente le due amiche vengono interrogate, ma loro raccontano ciò che hanno vissuto. Ossia erano a bere qualcosa insieme, hanno provato a chiamare Mindy per invitarla, non hanno ottenuto risposta, sono andati a controllare e hanno trovato la loro amica senza vita. Ma per Jay la situazione è ben diversa. L'uomo quindi viene interrogato con più attenzione. Dice agli agenti che il 13 settembre lui era a casa e stava guardando la televisione, quando di colpo ha sentito dei rumori provenire dall'esterno del suo appartamento. L'uomo quindi è uscito dal suo appartamento per capire da dove arrivassero quei suoni. Quindi si è reso conto che poco più in là c'era l'entrata di un appartamento aperta. E quei rumori arrivavano proprio da lì. Jay quindi è entrato in quella casa e si è precipitato verso Mindy per capire se c'era ancora del battito cardiaco. L'uomo dice sotto interrogatorio. Sapete, credo sia stata strangolata. I detective lo guardano e ribattono. E questo cosa te lo fa pensare? Jay ribatte. Ho scontato una pena in California e là dentro ho visto tanta merda. È così che i detective scoprono che Jay è già stato in carcere. Principalmente per Risse. I detective poi notano anche dei segni, dei graffi sulle mani dell'uomo. Jay spiega però che lavora l'acciaio quindi le sue mani sono sempre piene di graffi e segni. Per i detective quella è una buona pista per iniziare. Certo non è possibile decidere in anticipo cosa sia successo per poi andare a cercare le prove col fine di confermare le proprie supposizioni. È necessario per prima cosa trovare gli indizi e poi farsi condurre dagli indizi a quello che è realmente accaduto. Ovviamente ci vuole del tempo per ottenere i risultati degli analisi. Di certo Jay dopo questo interrogatorio non è stato scagionato ma ha collaborato, non ha posto resistenza. E questo già è un ottimo inizio. I detective arrivati a questo punto si rendono conto che questo è uno dei casi in cui è necessario andare a bussare ad ogni porta per avere qualche informazione. Di conseguenza la polizia inizia ad indagare nel quartiere in cui abitava Mindy. Interrogano tutti i suoi amici e tutti i suoi conoscenti. Il punto è che nessuno sa effettivamente chi possa aver preso di mira la ragazza. La domanda che tutti si fanno in realtà è questo assassino era interessato solo a Mindy? Oppure lei era solo uno dei suoi tanti bersagli? Nessuno sa rispondere a questa domanda e quindi tutti iniziano a diventare dei potenziali sospettati. Le autorità interrogano circa 75 persone se non di più. E per di più, cosa che mi ha lasciata un attimino basita, l'accesso all'appartamento di Mindy non viene mai limitato. Mai! Questo quindi vuol dire che tutti possono entrare ed uscire da quell'appartamento indisturbati. Io quando vengo a sapere queste cose rimango sempre alquanto basita e se la polizia avesse avuto bisogno di andare a fare altri sopralluoghi, altri test, cosa si ritrovavano? Una scena del crimine totalmente contaminata. La gente del posto ha paura e si sente in pericolo in quanto questo genere di crimine è raro che accada in comunità così piccole come quella di Valley City. I detective durante i giorni di interrogatorio non ottengono assolutamente nulla perché Mindy in realtà non aveva nemici. Sembra che davvero tutti adorassero quella ragazza. Lessi, un'altra amica di Mindy, va subito sotto il suo appartamento quando apprende della tragica notizia. Appena giunge lì nota che c'è un grande via vai attorno a quell'appartamento. I suoi occhi quindi si spostano tra la folla e si appoggiano su un uomo che porta un cesto della biancheria come se non ci fosse nulla di anomalo. Si fa largo tra la folla, è tranquillissimo, vuole solo salire le scale per riuscire ad arrivare al suo appartamento. Lessi dunque appena vede Dave Swenson si precipita da lui per fargli notare quel tipo alquanto strano. Sembra non essere assolutamente toccato dall'omicidio di quella giovane ragazza. La gente a questo punto inizia a guardarlo e si rende conto che effettivamente nel suo comportamento c'è qualcosa che non va. Quindi lo convoca in centrale per un interrogatorio. Mo Gibbs lavorava come guardiano notturno presso l'università. Poi è diventata una guardia carceraria nella prigione della contea di Barnes. Quindi conosce le autorità che gli stanno facendo l'interrogatorio e viceversa. Mo ha 35 anni e nel momento della morte di Mindy risiede nel suo stesso condominio. È rimasto lì con la moglie incinta e la figliastra proprio perché lavorava come carceriere ed era quindi vicino al posto di lavoro. L'uomo ha fatto il militare in marina dal 1990 al 1999. Si occupava di ricerca e soccorso ed è stato congedato con disonore per delle aggressioni. Anche se Mo è una guardia carceraria è necessario seguire ogni singola pista. Ogni ipotesi perché le autorità brancolano letteralmente nel buio. Mo quindi era un vicino di casa di Mindy perché abitava lungo il suo stesso corridoio. Di conseguenza anche lui è un indiziato. Così i detective prelevano un campione del suo DNA per poi continuare a interrogare altri indiziati e valutare altre piste. I detective continuano ad indagare e scoprono che Mindy ha un ex fidanzato di nome Kyle. La ragazza l'aveva incontrato durante il college. Kyle gioca calcio per l'università di Valley City. I detective quindi provano a contattarlo più volte senza però ottenere mai risposta. Alla fine è Kyle a chiamare la polizia. Si presenta in centrale il 16 settembre per un interrogatorio. Kyle racconta che lui e Mindy si sono frequentati per circa tre anni. E la loro è stata sicuramente una relazione difficile. Kyle spiega ai detective che Mindy si nervosiva e si arrabbiava molto facilmente. Ogni volta che parlava con un'amica che aveva conosciuto all'università. Il ragazzo dal canto suo le ripeteva calmati sono solo delle amiche le conosco da almeno tre anni e mezzo. E tra di noi non c'è mai stato niente di sentimentale. Ma c'è di più a quanto pare Mindy era solita anche sentire un altro ex fidanzato con cui peraltro aveva un legame alquanto stretto. Kyle sostiene che a Mindy piaceva un sacco flortare quando stavano assieme. Il ragazzo conclude l'interrogatorio con queste parole. Non so se questo possa averla messa nei guai. Bisogna stare attenti con queste cose. Magari era al ristorante e ha iniziato a flortare con un cliente ma la situazione è precipitata. Diciamo che Mindy era giovane carina e molto disponibile. Non ho più avuto contatti con lei ma sapevo che riusciva ad avere informazioni tramite mio padre. A quanto pare loro continuavano a sentirsi. Così poi mio padre mi chiamava per parlarmi di Mindy. Ho persino dovuto dire a mio padre che gli sarei stato grato se avesse smesso di sentirla. Anche perché io al momento sono fidanzato con un'altra ragazza. Quindi stando a ciò che dice Kyle suo padre Rodney ha continuato a mantenere dei contatti con Mindy. Nonostante la loro relazione fosse ormai terminata da un pezzo. Il padre di Kyle infatti era andato a far visita a Mindy la settimana precedente all'omicidio e due settimane prima. Ovviamente dopo aver ascoltato Kyle gli investigatori convocano suo padre Rodney. L'uomo aveva un rapporto molto stretto con Mindy. Dice di aver continuato a sentirla perché aveva un carattere molto esuberante e il suo modo di fare gli ricordava sua moglie quando era giovane. Una delle chiamate sul numero di cellulare di Mindy nel giorno in cui è stata uccisa è risultata provenire proprio dal telefono del padre di Kyle. Negli ultimi mesi l'uomo ammette di aver sentito Mindy in media sei volte a settimana. Ma quando stava con Kyle si sentivano anche più volte al giorno. L'uomo però sottolinea che in quel periodo era più Mindy a chiamare lui piuttosto che il contrario. Il giorno in cui ha saputo della sua morte l'uomo l'ha chiamata per ben due volte lasciando un messaggio in segreteria. E quel messaggio in segreteria rappresenta un segnale di allarme che i detective non possono assolutamente ignorare. Infatti il messaggio in segreteria dice esattamente queste parole Mindy sono Rodney so cosa ti è successo ma volevo sentire la tua voce non ce la faccio ti amo bambina ti prego aiutami ti prego Mindy non posso continuare senza di te ti prego aiutami in qualche modo ti voglio bene addio Rodney alle autorità dice lo so che sembra un gesto stupido ma io davvero volevo solo sentire la sua voce la sua voce è della segreteria dice ciao sono Mindy spero che tu stia bene questa situazione in effetti sembra parecchio bizzarra però è un fatto che le persone facciano un sacco di cose strane di conseguenza le autorità prelevano un campione di DNA anche da Rodney il padre di Kyle a questo punto delle indagini le autorità hanno già alcuni indiziati che sono l'ex fidanzato di Mindy Kyle suo padre Rodney e i due vicini di casa Jay e Mo devono tenerli d'occhio tutti e quattro fino all'esito dell'esame del DNA però a questo punto si aggiungono altre informazioni come già vi ha detto Mindy faceva la cameriera e lavorava in un ristorante chiamato da Robis ebbene una collega che lavorava con lei dice agli inquirenti che c'è un tizio che vive dall'altro lato della strada rispetto al ristorante in un camper insomma questo tizio si comportava in modo strano non faceva altro che guardare ossessivamente Mindy e le altre cameriere a questo punto l'uomo viene immediatamente convocato alla centrale sostiene di essere un vagabondo nessuno lo conosce in quella città e in effetti i membri della comunità con i giorni che passano non pensano che il colpevole possa essere una persona del posto la maggior parte di loro trova assurdo che un coincittadino fosse capace di una cosa del genere e a dirla tutta in effetti in quell'uomo c'era qualcosa di inquietante metteva disagio Mindy tanto che aveva denunciato questo fatto diceva di temere per la propria sicurezza però una volta portato in centrale quell'uomo dice di non centrare assolutamente nulla non solo non conosceva Mindy ma era anche un incensurato gli agenti però notano che ha dei tagli sulla mano quest'ultimo dice di essersi fatto male cambiando il filtro dell'olio c'è per un fatto dall'aspetto delle unghie di Mindy sembrava che effettivamente avesse graffiato il suo assassino i detective anche in questo caso non possono sapere se quell'uomo sia colpevole così i detective gli dicono guardi abbiamo interrogato molte persone e tutti quelli con cui abbiamo parlato sono stati molto collaborativi come lo sei stato tu rispondendo alle domande che ti abbiamo fatto l'uomo ribatte beh certo voglio aiutarvi a trovare il colpevole il detective quindi risponde bene perché stiamo cercando di scartare tutte le persone mano a mano che le interroghiamo vorremmo scattarti delle foto e prelevare un campione di DNA sarebbe un problema per te? e qui effettivamente l'uomo risponde beh potete fotografarmi ma io non sono un criminale perché volete il mio DNA? a questo punto i detective circoscrivono le ricerche e cercano di concentrarsi su questo uomo e sul suo passato scavando sul passato di questo uomo non trovano nulla di che nulla di allarmante quindi lo riconvocano in centrale e gli chiedono immediatamente è qualcosa a che fare con la morte di quella ragazza? l'uomo risponde con voce ferma io non ho ucciso nessuno mai non l'ho uccisa i detective a questo punto ribattono allora non avrà problemi a fornerci il suo DNA sbagliamo? le crediamo non è colpevole ma dobbiamo per forza raccogliere il suo DNA e analizzarlo per escluderlo dalla lista dei possibili colpevoli l'uomo alla fine accetta arriva il 18 settembre sono passati 5 giorni dall'omicidio di Mindy e la polizia riceve i risultati dei test del DNA dei 5 sospettati 4 campioni risultano negativi 1 mostra delle corrispondenze quel DNA è stato analizzato due volte per essere sicuri al 100% dell'esito del test il 22 novembre del 2006 vengono scagionati grazie al DNA l'ex ragazzo di Mindy Kyle suo padre Rodney Jay il vicino di casa di Mindy e lo straniero che viveva al lato opposto del ristorante in cui lavorava Mindy il campione è risultato positivo appartiene ad una persona all'interno della comunità molto nota e stimata si tratta della guardia carcelaria Mo Gibbs che a questo punto viene sottoposto all'esame del poligrafo il tecnico del poligrafo nota che alcune sue affermazioni non hanno né capo né coda sono proprio totalmente incoerenti l'uomo quindi fallisce il test ed il tecnico dice a Mo che il suo DNA corrisponde a quello trovato sotto le unghie di Mindy Mo Gibbs così viene arrestato il vice procuratore ritiene che Mo abbia fatto delle avance a Mindy ma lei avrebbe opposto resistenza ecco perché è stata uccisa a questo punto facciamo un bel passo in avanti perché in questo caso si palesa una donna di nome Etienne Brizeta vive in Minnesota ed è la sorella di Mo Gibbs la donna soffre di disturbo bipolare di depressione e ha cercato di porre fine alla sua vita e a quella delle sue due figlie il 22 giugno del 2008 si è chiusa in garage ha avviato la macchina e ha collegato al tubo di scappamento un ennesimo tubo per portarlo all'interno del veicolo fortunatamente la polizia è accorsa in tempo salvando la vita sia a Etienne che alle sue due figlie la donna viene quindi condannata a 12 anni di detenzione la donna afferma che malattia mentale o no sono state le mie mani o le mie azioni a mettere in pericolo le mie figlie l'avvocato d'ufficio di Etienne aveva chiesto al giudice di lasciare che la donna al posto del carcere scontasse la sua pena con un'organizzazione che fornisce alle persone con problematiche mentali alloggi e lavoro ma l'assistente procuratore della contea di Polk nel Minnesota dice al giudice che Etienne deve stare in prigione infatti i suoi crimini sono aggravati dal fatto che le vittime erano davvero molto vulnerabili ma il collegamento non si limita certo a questo la donna dal marzo del 2007 al luglio del 2008 ha venduto delle pillole di Fentermina che sono a quanto capito delle pillole dimagranti stava cercando un modo per finanziare una squadra di difesa legale per suo fratello Mo Gibbs che stava affrontando un'accusa di omicidio la donna non è riuscita ad aiutare Mo anzi viene condannata ad ulteriori 21 mesi di carcere a questo punto facciamo nuovamente un passo indietro al processo Mo viene collegato alla violenza intima di una donna a Fargo nel 2004 ha anche ammesso di aver aggredito 5 detenute nella prigione in cui lavorava l'11 novembre 2007 Mo Gibbs viene ritenuto colpevole dell'omicidio di Mindy e viene condannato all'ergastolo senza condizionale inizialmente si è dichiarato non colpevole per l'accusa di omicidio ma quando le prove sono emerse ha cambiato la sua dichiarazione la polizia durante il processo ha anche appreso che Mo Gibbs aveva cambiato il suo nome nel 2005 per coprire il fatto che era stato in prigione per tentato omicidio mentre prestava servizio in marina mentre lui sotto interrogatorio aveva detto di essere stato congedato con disonore per un'aggressione non per un tentato omicidio nel 2009 Mo Gibbs ha presentato un ricorso che è stato respinto dalla Corte Suprema dello Stato questo ovviamente non ha affermato i suoi tentativi di ricorso ha inoltre presentato una petizione alla Corte Federale per accuse di cattiva condotta giudiziaria e indagini di polizia impropria la petizione di Gibbs implicava anche un'assistenza inefficace di un avvocato al processo e in appello il giudice distrettuale degli Stati Uniti Ralph Erickson ha archiviato il caso dopo la sentenza di un giudice magistrato quale ha dichiarato che la mozione non era stata depositata entro un anno dall'ultimo appello del condannato il caso di Mo Gibbs ha portato numerosi e significativi cambiamenti all'interno dei procedimenti legali relativi ai requisiti di controllo dei precedenti penali per gli agenti nelle strutture di correzione del Nord Dakota detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video spero che questo video possa essere stato per voi interessante conoscevate questo caso fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che fanno bene ma soprattutto fate ciò che vi rende felici e prendetevi cura di voi ciao ragazzi ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.